Qui, nella parte orientale dell'Arabia Saudita, tre giorni dopo la morte di suo padre per un'infezione alle vie respiratorie, Hussein Halshaik ha cominciato a sentirsi febbricitante. Dopo che mio papà è morto, il primo a essere infettato sono stato io. Mi sono sentito davvero male, così sono stato portato in terapia intensiva. Poi dopo di me si è ammalato mio fratello e ora è ancora in terapia intensiva e speriamo che tutto vada per il meglio. Poi mia sorella. E poi mia sorella. La cosa di maggiore preoccupazione è però il fatto che i diversi gruppi esaminati in diversi paesi sostengono sempre più l'ipotesi che quando vi è uno stretto contatto, questo nuovo coronavirus si possa trasmettere da persona a persona. Anche Gran Bretagna e Francia hanno segnalato casi su persone che erano state di recente in Medio Oriente.